Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, la relazione è finita ti autorizzo a postare le prove contro di me. La storia d'amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sembrerebbe essere finita malissimo. Solo poco tempo fa, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi aveva annunciato pubblicamente che la pronipote di Gucci Gucci aveva chiesto una pausa di riflessione. I motivi? Le differenze caratteriali tra i due e la gelosia di lei. Ora, però. E' stata Drusilla a dire la sua, decidendo di parlare per la prima volta della vicenda. Attraverso una Instagram story, l'ereditiera ha aggiunto un ulteriore dettaglio sui rapporti attuali con l'ex protagonista di Temptation Island. Il gatto nella dispensa quello che fa pensa, ha concluso Drusilla, alludendo a un possibile tradimento da parte di Francesco. A poche ore di distanza, è arrivata la risposta social del diretto interessato, che ha detto Il gatto è carattero mio di fier, che baie ploaie vanno nici un curcubeu, da c'è che toate astea-s doar in capul mei. Si-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cat ai intarziat deja. Arunca spate visele intr-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina că lumea e atas Si-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Acum, nu, nu, nu mai am nimic, de-as gunzi pot să mă duci tot. M-am zuc.